19 gennaio 1925 nasce a Missilmeri in provincia di Palermo Rocco Chinnici divenuto consigliere istruttore nel 1979 trasforma rapidamente l'ufficio istruzione di Palermo nel più importante centro italiano di lotta alla mafia con la collaborazione di Giovanni Falcone Paolo Borsellino e Giuseppe di Lello il 29 luglio del 1983 muore nell'esplosione della sua auto imbottita di esplosivo parcheggiata davanti alla sua abitazione in via Pipitone Federico a Palermo ad azionare il detonatore è il killer mafioso Pino Greco con Chinnici muoiono altre tre persone il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi l'appuntato Salvatore Bartolotta componenti della scorta del magistrato e il portiere dello stabile Stefano Lissacchi